Io purtroppo vengo da Matera, quindi non ho potuto portare la mia chitarra. Chitarra? Alessandro Di Nero. Alessandro Di Nero, di Matera? Sì. Quanti anni hai? 23. Ah, ok. Qui ho solo una canzone di cui c'è l'arrangiamento completo, però se vuole sentire, ne ho un'altra che le puoi far sentire con la chitarra. Me la faccio prestare. Fatti a prestare la chitarra, fatti a prestare la chitarra. Questo pezzo è diverso dalla mia anima, è un pezzo che ho scritto con una storia su Giovanni Passanante, che è stato l'anarchico che fece l'attentato al re a Napoli, perché voleva denunciare quella che era la situazione del sud. Dopo questo è stato torturato per notti interi in carcere ed è stato tenuto per 12 anni in prigione, in una praticamente tomba di acqua e pietra sotto il livello del mare e ne è uscito pazzo. E il suo paese che si chiamava Salvia di Lucania, successivamente è stato chiamato Savoia, come sfregio per quello che lui aveva fatto. E perché gli hai dedicato una canzone? Perché quando scrivo voglio dire qualche cosa, cioè nel senso non le faccio sentire infatti canzoncine d'amore, perché credo che scrivere debba avere un significato, cioè debba esserci qualche messaggio da dire, altrimenti chiunque potrebbe scrivere quanto ama la sua ragazza. E questa è una canzone che per quella che è la situazione del sud in questo momento, io lo so perché ho scelto di rimanere a Matera per cercare di aiutare la mia città, quindi l'ho scritta penso in una città. Qual è la situazione del sud in questo momento? Abbiamo pochi spazi, è la cosa ancora peggiore che non è più come prima, mentre prima c'era quella che si chiamava situazione meridionale, adesso non c'è più. Cioè adesso sembra che tutto vada bene quando non è così. La politica qui non esiste nel senso di politica letterale, è semplicemente gente che si fa eleggere per fare gli affari propri, ancora peggio che a livello nazionale, europeo, insomma qui c'è sostanzialmente un potere forte che usa la politica per fare quello che vuole. E noi ci troviamo in mezzo a questo, senza poter dare il contributo che vorremmo alla nostra terra. Ma è il gesto di uccidere come ha fatto l'anarchico? No, lui ha cercato semplicemente di ferire, perché il re quando venne a Napoli, che poi era il marito della regina Margherita, infatti venne fatta la pizza Margherita apposta per la sua visita a Napoli, lui voleva fargli una ferita perché lui aveva promesso che il sud sarebbe diventato come il nuovo Piemonte, cioè pieno di fabbriche, pieno di lavoro, e invece lui che era un ristoratore si trovava a dover dare da mangiare tutti i giorni a gente che non aveva neanche un soldo, e quindi è andato in fallimento un sacco di volte perché lui faceva mangiare chi moriva di fame. E per fare questo gesto è arrivato a Napoli e si è venduto la giocca di velluto, che era l'unica cosa a compiere, era partita da casa, per avere un coltello di quattro dita, quindi un coltellino sostanzialmente piccolissimo. Era un gesto per richiamare l'attenzione rispetto a quello che stava succedendo. E l'ha ferito o l'ha ucciso? L'ha ferito sulla coscia la regina Margherita. E basta. Per questo è stato, la madre e la sorella sono state stuprate, violentate, e poi buttate in manicomio senza sapere cosa fosse successo al loro fratello, al loro figlio. Lui poi è rimasto lì per 12 anni. Tra l'altro è una storia che ha a che fare con l'ombroso, quello che il medico che diceva che nella fossetta occipitale ci fosse il gene della criminalità. e infatti quando lui poi è stato ammazzato, perché è uscito dalla galera che era pazzo completamente, è morto di lì a poco, il suo cervello è stato messo in un museo di Roma e c'è rimasto lì fino al 2007-2008. Perché era il cervello di un criminale? Fammi sentire. Ricordi tutta mia, il tuo splendore ormai lontano, è per me la vita mia, c'è proprio il sangue sulla mano, la giacca di bellocco, vera andantia di casa, Io vado mamma mia, con il sole vado via. E' la terra storrata, né scuole né strada, abbandonata adesso, domani non sarà lo stesso. Col cappello del cuoco, faremo una bandiera, e prima di sera, potremo anche morire. Una lama sincera, l'alba di una primavera, una voce dal buio, che si ribellò. Nella tua mano è pugnale, sporco di sangue reale, per la tua terra, lei non rivedrai, per la giustizia il tuo nome, di un vile attentatore, o un paese rapito, non libererai. Negli occhi di un bambino, riusciste a scorgere il dolore, di un futuro ormai passato, e dalla fame consumato. Ma Napoli era in fiore, costretta nel suo omaggio, ad un re straniero, che a quella gente, reso il traggio. Una lama a quattro dita, quando passò la sua carrozza, ma uccideste una verità, per ricordargli una promessa. Col cappello del cuoco, faremo una bandiera, prima di sera, guardremo anche voi, una lama sincera, l'alba di una primavera, una voce dal buio, che si ribellò. Nella tua mano è pugnale, sforzo di sangue reale, per la tua terra, lei non rivedrai, per la giustizia il tuo nome, di un vile attentatore, a un paese rapito, non li pelerai. Buio di sangue e di tortura, sul tuo corpo ormai straziato, le tue urla erano vento, verso il mare un testamento, la tua terra ti aspettava, e tu la rivedresti in sogno, tra le stelle del tuo cielo, tornasti senza far ritorno. e la tua mano è pugnale, sforzo di sangue reale, per la tua terra, lei non rivedrai, per la giustizia il tuo nome, di un vile attentatore, di un paese rapito, non libererai, non libererai, non libererai, non libererai. Con il cappello del cuoco faremo una bandiera E prima di sera ottoni e mori Una lama sincera, l'alba di una primavera Una voce dal buio, un essere in bello Con il cappello del cuoco faremo una bandiera E prima di sera Bella, troppo lunga Sì, lo so A sentire questo Cantola, venti fatti Canto sopra? Ok Mi rimane così, quando non so più Se è tardi o presto, se è sogno o realtà Apro quel confine, perduto nella mente E tu sei quella chiave, smarrita dalla gente Una poesia, un po' di eternità Tu che nome hai, io sono già pronto E tu sei quel momento che spiega ogni perché Senza domande, sei musica per me Ti penso ed il mio cielo cambia profondità Io che so non estraneo di questa realtà Tu sei toccare il fuoco e riceverne magia Luna di un tempo antico Oceano e melodia Del mondo la soluzione, la grande libertà Mio unico volere, eterna verità La mia anima La mia anima Ok, e le altre che canzoni erano? E le altre che canzoni erano? E le altre che canzoni erano? E le altre che canzoni erano molto famose Se bruciasse la città Ah oui, accetto C'è Massimo Ranieri in mezzo alle tue canzoni Sì Beh vabbè lui ha fatto un filmetello Un anartico Sì, infatti Lo sento vicino C'è un attinenza Allora Massimo Ranieri è il mio mito vocalmente parlando Perché ho avuto l'imprinting vedendo un po' con il vero Cioè lui è straordinario Fa delle cose sul palco Va bene Ok Ti ringrazio Ci vediamo Vai avanti a fare il live col gruppo Ok? Va bene Grazie Questo devi fare Devi fare dei live Devi confrontarti però anche un po' con altri muricisti In che senso? Nel senso che il confronto accresce sempre Hai capito? Cioè il confronto con altri muricisti accresce sempre Cioè nel senso che altrimenti tu vai dentro a un tuo loop dove racconti le tue storie E fai una canzone come quella sull'anarchicoop che è lunghissima E non c'è nessuno che dice Oh hai rotto e taglia un attimo Quella è lunga però effettivamente siccome avevo scritto prima il testo Non sapevo dove tagliare E al bambino è lì Il dolore non è nello scrivere Il dolore nell'eliminare È lì Ok?